Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati nel canale. Oggi un video che non facevo da un po' di tempo riguardo consigli di bellezza, crimedi naturali. Questa volta il protagonista sarà il miele. Sapete che io il miele lo adoro, è uno dei miei ingredienti preferiti perché ha un sacco di proprietà, è idratante ed emolliente e questo lo rende ottimo sia per i capelli che per la pelle. Come se non bastasse è un ottimo antiossidante e questo contrasta l'invecchiamento cellulare e ha anche numerose proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. Prima di andare a vedere però come utilizzare il miele durante la notte, lasciate un mi piace il video e iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale e lasciatemi scritto sotto nei commenti quali ingredienti vorreste vedere nel prossimo video di questa tipologia qui. Come prima cosa consiglio per le labbra secche. Potete utilizzare il miele per fare uno scrub prima di andare a letto con un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di miele e una volta averlo risciacquato per bene idratate le vostre labbra con uno strato leggerissimo di miele prima di andare a letto. Vi sveglierete con delle labbra morbidissime e liscissime. Consiglio per l'acne. Applicate uno strato di miele nella zona da trattare e copritela con delle bende. Lasciatelo riposare tutta la notte e il mattino seguente andate a risciacquare. La pelle risulterà meno infiammata e vi aiuterà a velocizzare il processo di guarigione. Per aiutarvi invece con le punte dei capelli, punte secche, punte spente, punte rovinate, realizzate una piccola maschera con del miele e dell'olio d'oliva in parti uguali. Applicatelo sulle punte dei capelli, dopodiché li legate bene, li tenete coperti con una garza, un calzino e li lasciate in posa tutta la notte. Dopo aver lavato via il prodotto i capelli risulteranno subito più spessi e più nutriti. Per avere invece una pelle del viso più luminosa mescolate una parte di miele con due parti di gel d'aloe vera e applicate questo impacco sul viso prima di andare a letto. La mattina il risultato sarà immediato, subito più luminosa, più morbida, più setosa e ovviamente più luminosa. Per aumentare i riflessi biondi sui capelli, i riflessi dorati biondi, potete utilizzare un mix di miele e camomilla da spruzzare sui capelli. Usate una cuffia per la doccia, per andare a letto senza sporcare tutto tutto il cuscino e tenetelo in posa tutta la notte. Anche per i brufoli può essere un buon rimedio. Applicate esattamente sul punto da trattare del miele e lasciatelo tutta la notte. Il risultato la mattina sarà sicuramente migliore e aiuterà anche a guarire l'infiammazione. Ultimo consiglio per oggi è dedicato ai punti neri. Mescolate un cucchiaino di miele con un po' con qualche goccia di limone e applicatelo sulla zona da trattare che può essere il naso, il mento e la fronte insomma sulla zona t e lasciatelo in posa tutta la notte. Ricordatevi che il limone è fotosensibilizzante e quindi il mattino seguente lavate via molto molto bene il composto che vi eravate applicati la sera prima. E niente con questo è tutto. Fatemi sapere se questi consigli vi sono tornati utile, se li conoscevate già. Se avete altri suggerimenti lasciateli giù nei commenti. Se volete altri video di questo tipo lasciate un mi piace al video e fatemi sapere di quali ingredienti volete altri trucchi e consigli. Con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile. Condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!